Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Allora ragazzi, ho lavorato un pochettino qua off camera, ho minato un pochettino E ho trovato un paio di cose, adesso vi faccio vedere Subito qua ce n'è già uno Ho trovato del diamante Del redstone, del diamante, del redstone, un canyon, del diamante Insomma ragazzi ho veramente trovato di tutto Qua ho messo qua c'è già un bel po' delle cose che ho trovato L'ho anche già smistato, guardate quanta roba abbiamo, veramente troppa E vi faccio vedere qua che ho aggiunto una cassa per la cobblestone Qua ho messo fuori delle mucche perché mi servono assolutamente Mi serve la loro pelle Perché la loro pelle, perché tutti i materiali che vi ho fatto vedere poco fa non li ho raccolti Li ho soltanto fatti vedere Perché ho bisogno di un piccone con fortuna per prenderli In modo da poter estrapolare il massimo delle risorse da quest'ultimi Tanto diamanti ne abbiamo ancora due Quindi se eventualmente vogliamo farci ancora qualcosa tipo una spada Possiamo E ragazzi, oggi penso che cominciamo un nuovo progetto Perché abbiamo finito il primo progetto Ovvero quello della fam di Scheletra E adesso vi faccio anche vedere che ho lavorato molto bene, ho decorato tutto Ed è venuta veramente una cosa molto carina E mi vedrete un po' impacciati in questo video perché ho cambiato mouse Mi è stato regalato un mouse molto bello, mi piace E un mouse semplice, non è un top di gamma Però non è nemmeno una cacca come quello che avevo prima che perdeva i pezzi E mi trovo abbastanza bene Mi piace, mi piace, mi piace E niente ragazzi, quindi se mi vedete un pochettino più fluido Tipo guardate la retella quanto è sensibile Quindi potete già vedere che ci devo fare ancora un po' l'abitudine E niente ragazzi, adesso ho fatto due picconi Andiamo qua per incantarli Guardate qua che figa che è diventata Oddio, F3A per ricaricare i chunk No, F3A per ricaricare i chunk, grazie Ok E guardate che figata Ho fatto veramente un bel lavoro, lo so No, no, questa qua merita già lo screenshot Screenshot power Questa qua veramente lo merita Veramente, veramente Ok, et voilà F1 e F10 Ok Allora, detto questo vi faccio vedere che Guardate che figata queste specie di punte Non lo so come chiamarle Poi ho messo un altro slab So poi le torce Cioè mi sono veramente sbizzarrito Ho usato la cobblestone Non tanto perché fosse economica Vi ricordo Ma anche perché alla fine è del colore grigio E poi ricorda molto il dungeon Quindi andava bene Ho lasciato l'ascensore con questa parte libera Lì non so se mettere tipo qualcosa con l'acqua Devo vedere E niente, comunque Piasa Ne piasa E qua adesso scendiamo Vi faccio vedere che qua andremo a mettere le librerie Appunto Due strati di librerie E andrei E qua abbiamo già l'incudine Quindi possiamo già fare un po' di cose E ad ogni modo ragazzi Abbiamo già 30 Più di 30 livelli Quindi incantiamo come pazzi E vai 2 efficienza 2 Che fantasia Minecraft eh Che fantasia E niente Quindi appunto Per sbloccare delle incantesime migliore E andare a prendere i materiali che vengono là sotto Ci serviranno Più livelli Per fare più Per Non più livelli Diciamo incantesimi con più livelli E Come ottenere incantesimi con più livelli Con le librerie E come ottenere le librerie Con la pelle delle mucche Quindi Dobbiamo lavorare sulla riproduzione di quelle cose Chiamate mucche E Niente ragazzi Quindi allora E come dico Di solito Andiamo di qua E andiamo a dormire Andiamo di qua a dormire Ok Adesso clicco un po' di volte E Tanto per fare qualcosa Wow L'ho riempita la barra Comunque Dov'è il nostro ferro Guardate quanto ne abbiamo Veramente tanto Sì la farm di ferro Alla fine È utile Cioè Sembra che farmare ferro Sia una cosa assurda Ma alla fine Con una buona minata Si può ottenere Qua Diciamo che non si caricano Ok Siamo caricati Penso che Dovevo fare un piccolo stacco E far riprodurre ancora un po' le mucche Vero? Qualcosa mi dice di sì E Qualcosa mi dice di sì Però direi che queste patate Si possono far cuocere Non lo so ragazzi Devo inventarmi qualcosa Perché Queste mucche devono Dessere di più Ecco E quindi direi che appunto Faccio un piccolo stacco Ragazzi E cerco di far riprodurre Queste mucche Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Ho trovato una soluzione migliore Ovvero andare a cercare Delle altre mucche Sì nel frattempo Mi da altri begli obiettivi Tipo Ribalta la mucca E Sembra uno sport Ribalta la mucca Vabbè lasciamo stare Comunque appunto Ho girato un pochettino Ho trovato un bioma Che mi serviva veramente molto Vero la palude Per le slime ball E ancora meglio Ve lo faccio vedere Ho trovato La foresta oscura La foresta oscura Sì questa qua Mi serviva veramente Tanto Peccato che Appena finiscio Appena finiscio L'accia E non posso Pigliare Non posso Posso farmi una In pietra al volo A proposito di pietra L'ho visto una Formazione di pietra Che voglio andare a vedere E Voglio assolutamente Andare a vedere Uh Lì sono anche degli Artropodi Giusto? Sì Artropodi Come l'incantesimo Che c'è sulla mia spada E infatti Adesso li andrò a uccidere E piglierò anche Un po' di queste Qua Io ci vedo Una struttura Ragazzi Sì Qua ci vedo Una struttura Ce la vedo Ce la vedete anche voi Sì sì ce la vedete Ve lo dico io E no Li ucciderò poi dopo Questi altri Altri alternativi Io vorrei fare un altro Ma perché non li chiamo polpi Semplicemente Comunque Li ucciderò poi dopo Altrimenti devo fare Altri stacchi Veramente non li voglio fare Altri stacchi Voglio Registrarlo un pochettino adesso Allora Ci sta Una struttura qua Dovete consigliarmi voi Cosa fare una parude Un'idea originale Ragazzi Un'idea originale Lasciatemelo nei commenti A proposito di commenti Youtube È Una cacca L'avete visto? No Ma dico Avete Cioè f3 ama Per ricaricare i chunk Grazie E no Dico avete visto ragazzi A parte gli scherzi Che schifo che ha fatto Quei commenti Cioè adesso Quando uno di voi Mi scrive un messaggio Non posso Visualizzarlo Almeno che Io non preveda Che voi mi avete scritto Cioè Io devo prevedere Che uno di voi Mi ha scritto E come faccio? Semplicemente vado a vedere L'ultimo video che ho pubblicato Ragazzi Non posso fare altro Nel frattempo fa notte E si direi che vado a casa Ragazzi E faccio un'ascia Torno Rubo un bel po' di legno E ragazzi Ditemi cosa devo fare in quel laghetto Perché in quel laghetto Qualcosa ci doveva pure essere Da fare E niente Quindi direi che Adesso andrò a casa Sì Andrò a casa E creerò la prima libreria Eccoci qua Vi diamo un pochettino 8 livelli Cambiato tantissimo Grazie No ma No ma No ma grazie libreria Sei utilissima proprio Lasciamo stare Qua quanti scheletri ci sono Perché c'è un creeper Che figata E' anche una fame di creeper questa Lol Ok Questa è veramente bella Potremmo fare un mob spawner No Lo faremo Lo faremo Un giorno Forse Dai sì Un giorno lo faremo Dai Allora Comunque Bando le ciance ragazzi Prossimo progetto che voglio fare Quale Adesso a parte i scherzi Andremo un attimo in quella foresta oscura Veramente epica E prenderò un bel po' di quel legno Veramente epico E costruirò qualcosa di veramente epico Tipo 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 Una torretta Una torretta di avvistamento Che voglio mettere esattamente qua sopra Su questa Ho già fatto anche lo spazio Come vedete Via Foglia Su questo Colinetta Sì Ho anche impostato le impostazioni grafico Ho messo 10 chunk Perché è Diciamo La misura ottimale Per avere Quella nebbiolina Leggera Leggera In lontananza Dopo 10 chunk C'è un po' di nebbiolina Sì Mi piace Mi piace Così io potrò Adesso qua Già sono in alto Ma se io qua faccio una torretta alta Beh Metti 15 blocchi Quindi una cosa di questo genere Così Dovrei avere una vista Wow Perfetta Avrò la mesa Il deserto La montagna La farm La prima casetta Avrò tutto Posso farci tutto Quindi qua voglio fare una torretta Sì mi guardo la torretta E E niente Quindi adesso andrò a fare Una pala E un'ascia Che logicamente Incanterò anche Visto che Ho la possibilità di Incantarle E niente Quindi Devo farmare queste cavole di mucche E non so Come Come farmarne Penso che L'unico metodo Sarà la pazienza Per questo primo periodo Poi più avanti Riusciremo a farmare Come di matti Ma per ora L'unico modo è questo Mi spiace E Comunque Pazienza Comunque pazienza No scherzo ragazzi Devo inventarmi Attino qualcosa Devo cercare di Costruire Una pala E un'ascia Adesso dai Ce la posso fare Sì Una pala E un'ascia Per il progresso serve Una pala E un'ascia Sono un po' pensieroso Su come creare Una farm di mucche E' veramente difficile Potrei utilizzare le corde Che non le fanno Cioè Se noi tiriamo tanto le corde Le mucche in certi punti Non possono andare Boh lo vedremo Ragazzi Lo vedremo Comunque io qua Volendo posso già fare due corde Perché ho il materiale Qua ho anche della glowstone Che ho preso da una strega Perché in realtà le streghe Sono ancora vive ragazzi Era un fail Quello che avevo detto Anzi non un fail Un'informazione sbagliata Perché Me l'avevano detto Mi serve del ferro E mi serve del ferro Diciamo quattro pezzi Diciamo eh Ok E facciamo una specie di Track Ok E di track Perfetto Wow Che proezza Allora andiamo di qua Adesso Oh andiamo di qua L'ho detto di nuovo LOL Allora andiamo di qua Oh l'ho detto di nuovo LOL Ok basta Allora andiamo di qua Oh lol Basta Bene Allora Andiamo E basta E alla farm di Skeletri Mi piacciono un casino Quelle punte Sono bellissime Sembra un pettine gigante Un pettine gigante E il bello è che L'ho messo anche all'interno Cioè danno un bel effetto Tipo stalagmiti O stalattiti Non so quale Non lo so Comunque Asha Sette livelli Efficienza Va bene Un po' tirato ma va bene Due addirittura Bene Dai sono soddisfatto Dai oh dai 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 Ok ci può stare Sta facendo notte Andiamo a dormire E poi ci vediamo Nella foresta oscura Ok ragazzi Eccoci Sono finalmente arrivato A questa cavolo di foresta oscura Allora Cominciamo a pigliarci Tutti gli alberi Come i pazzi Ok Oh che bello Ok quest'albero Si con la Con la palla Penso che ci metterei un po' Vero? Si Lo so E' veramente divertente Il pezzo in cui io raccolgo la legna Vero? Comunque Giusto una piccola cosa Ringrazio Meglio saluto Ringrazio anche per tutti i commenti Come al solito Però Ringrazio e saluto Un utente E appunto da questo episodio Penso che ricomincerò a salutarvi Ovvero sto Salutando Darkdemo99 Che mi ha chiesto di essere salutato Quindi se anche voi Volete essere salutati Ditemelo in commento Io Se youtube non me lo lascia leggere Vi saluterò Altrimenti se youtube non me lo lascia leggere Vado a fanculo youtube Ehm E niente Adesso raccolgo questo bellissimo legno Per le prossime 800 ore Che passerò A raccogliere Legno Ok ragazzi Rieccoci E alla fine Ho preso un po' di alberelli E sono venuto a ripiantarmeli a casa Perché Veramente 42 pezzi Un albero solo Wow 42 pezzi di legno E' veramente tanto Ehm Niente ragazzi Questo qua E' uno E questo qua E' un altro Non utilizzo Robomil Perché non Perché ne ho poco Anzi ne ho tantissimo Però non c'ho voglia Di usarli ragazzi Ehm E quindi pazienza Dai Le lascerò crescere Naturalmente Ehm Tanto legno Ormai ne ho veramente tanto Adesso mi metterò A progettare La torretta Che faremo Lassopra Che mi permetterà Di vedere Tutto bene Nella pianura E decidere Dove farla a casa E Niente ragazzi Quindi spero Che questo video Vi sia piaciuto Se è così Spolliciate Commentate Iscrivetevi Fate cosa volete Ehm Se volete essere salutati Come Il nostro Carissimo amico Darkdemo Giusto? Si Ehm Ditelo nei commenti E Appunto Vi saluterò E cos'altro Mi raccomando Lasciate un like Perché come sapete Youtube E' stronzo E se anche voi Avete Diciamo Vi tenete in forma Ribaltando le mucche Iscrivetevi Al canale Quindi ragazzi Io Faccio un altro screenshot Perché mi piace troppo Sta farm Ovviamente troppo Ok Tacchete Ok E quindi direi che Per questo video E' tutto Io vi ringrazio Vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti